Con il titolo Appunti di viaggio si è inaugurata la mostra fotografica del toscano Pietro della Maggesa. Sabato 19 dicembre alle ore 18 l'inaugurazione presso la fototeca comunale intitolata a Bruno Grandinetti con la presenza del vice sindaco Ugo Riccobelli e dell'assessore Giancarla Benedetti. L'autore che ha girato il mondo con la macchina fotografica ha portato a Potenza Picena 50 foto che rappresentano momenti di vita vissuti a Cuba, in Namibia e in India nel corso del festival Cumbamela. L'obiettivo dell'autore riesce a penetrare negli occhi dei soggetti e le foto lasciano riflettere lo spettatore. Particolarmente suggestive le foto scattate in India e stampate da uno dei massimi esperti della post produzione il toscano Antonio Manta che vogliamo farvi conoscere. Un toscano verace come si suol dire qui a Potenza Picena come è nato questo legame con questa città. Ho conosciuto circa un anno e mezzo fa Enzo che è il presidente qui della fototeca, del circolo, ha visto dei miei lavori, ha visto mentre lavoravo nel workshop e mi ha invitato qui a fare una mostra fotografica. Ho trovato un posto splendido, persone splendide e è nata una collaborazione proprio con il circolo perché è un posto che mi intriga molto. La sua grande esperienza ha portato qui soprattutto in questi appassionati di foto tanta di quella sua esperienza. Sì, io sono fotografo e stampatore e diciamo in questo momento mi muovo su tutto il territorio europeo e cerco anche di trasferire perché secondo me il compito nostro è quello anche di trasferire le nostre esperienze e qui ho trovato persone molto molto ricettive. Ecco perché poi mi sono soffermato qui a Potenza Picena e spero di poterci tornare. Questa fotografia che trova sempre tanti appassionati ma ha un futuro ancora visto il digitale, ci sono le tecnologie che possono essere utilizzate ancora? Fotografia vuol dire scrivere e dipingere con la luce, poi se lo faccio con una telecamera, lo faccio con una fotografia, la faccio in camera off e sempre scrivere con la luce. Per me non esiste differenza, è un'idea, la fotografia è un'idea e interpretare la tua idea con un mezzo. Poi è più importante scattare o puoi elaborare la foto? Tutto, è tutto legato, purtroppo oggi questo sì, chi si avvicina al mondo della fotografia la fa molto più semplice di prima, prima si doveva sapere di camera oscura, si doveva sapere di tante cose, oggi sembra che tutto sia facile, invece non è vero, anzi oggi è molto più difficile e bisogna comunque portare il processo produttivo, fra virgolette, fino in fondo perché la nostra idea rimane qui se no o diventa di un altro. Qui la fotoclub, questo circolo fotografico ha iniziato anche un'attività con i giovani delle scuole medie, qual è il suggerimento che lei si sente di dare a un giovane che si appresta alla foto? La fotografia è un modo di esprimersi, penso che come tutte le forme artistiche sia sempre valido, io dico ai ragazzi che è un modo divertente, ho cominciato a 13 anni, ti aiuta anche a crescere e a socializzare con altre persone, intanto a dare sotto altra forma dei messaggi tuoi, che è la cosa secondo me più bella, far conoscere il proprio pensiero o con una poesia o con una fotografia. Occorre una macchina da migliaia di euro o basta oggi una macchina digitale magari da 100 euro? È in base a quello che uno ha in testa, io lavoro con Polaroid, ho lavoro con Asselblad che è la Ferrari della fotografia, è indifferente, è l'idea che conta, poi viene tradotta con dei mezzi che possano essere più o meno evoluti, ma per esempio la mostra mia che ho presentato proprio qui a Potenza Piscena era tutta scattata con una macchinetta compatta da 200 euro, cioè io non do tanta importanza al mezzo quanto all'idea che ci sta dietro. Per Pietro della Maggesa questa è stata la prima vera mostra con alle spalle un curriculum di viaggiatore con la macchina fotografica. La mia prima mostra fotografica, vediamo un attimino dove possiamo arrivare, la cosa di cui intanto sono molto orgoglioso è di essere riuscito a iniziare e a portare a termine qualcosa che mi portavo sin da che ero bambino, l'idea del viaggio. Qua si tramuta nel discorso fotografico e la cosa più interessante di quello che voglio fare è insomma riuscire a catturare quelle semplici espressioni della vita quotidiana nei volti sia delle persone, negli avvenimenti e riuscire a poi trasformarle in questo cosiddetto semplice click che alla fine non è molto semplice, però mettiamo così che sia un semplice click. La cosa che mi interessa di più nell'arte fotografica è riuscire poi a non solo accogliere le espressioni della personalità dei popoli o viceversa, ma riuscire anche poi a mettere in confronto le varie persone e i vari popoli. È una cosa un po' ardua oggi come oggi, ma io penso che tramite la semplicità di noi stessi, di noi tutti, piano piano magari le persone possono comprendere sempre di più quelle che sono poi anche gli avvenimenti in altri posti. Speriamo che questa avventura possa continuare, sono molto emozionato, ho tanto da imparare sicuramente, molto molto da imparare. Molto molto modesto. Guardi, io nel vedere le foto, nell'ascoltare il suo discorso introduttivo ho appreso che lei è un fotografo che ha scattato forse milioni di foto e ha girato il mondo. Io devo imparare un attimino tante cose, tra queste anche probabilmente a trarre una storia quando viaggio in quello che faccio. Il problema è che sono molto istintivo, nei miei viaggi in genere io macino fotografia anche perché è cambiata anche la tecnologia nella fotografia, per cui la possibilità di poter fotografare a ripetizione lì per lì sembrerebbe quasi un po' una confusione, ma in realtà è che io ho fame, ho molta fame di catturare determinate cose, scene, eventi, persone, animali. Sono un divoratore da questo lato qua. È che devo mettere a bada un attimino questa mia fame e incominciare a capire anche con la testa cos'è la tecnica. Piano piano imparo tante cose. Di fronte a un soggetto che cos'è che ti attira di più? È difficile dirlo. Diciamo l'insieme, la sua personalità. Se si parla di un uomo, ad esempio proprio la sua personalità, come veste, come si muove, come interagisce da solo o con altre persone. Tante cose. Dipende. È molto psicologica la cosa. Non è soltanto un fattore di quello che vedi e basta. Bisogna andare oltre. E poi soprattutto è da capire quando uno viaggia cosa vuole effettivamente vedere, cosa vuole incontrare e qual è poi comunque il tema che vuole affrontare. Quindi è un po' marginale la cosa, ma diciamo che si parte dall'aspetto psicologico. È un insieme di sfumature. Senti, tra queste foto che tu hai fatto sono per te come dei figli, ma ci puoi indicare tre foto tra questi 50 che hai esposto qui, che proprio ti creano emozioni. Allora, i volti dei bambini, la prima cosa. Dico bambini rispetto agli anziani perché sono gli inizi. Il bambino è l'inizio. È l'inizio di tutto. Non è più la fine. Bene. E poi sicuramente l'aspetto della natura e di quelli presenti qui, ad esempio quell'inferno dantesco che sono riuscito a fotografare, che è l'India, in questo caso il Kummela del 2010. L'insieme di questo groviglio, di queste persone che quasi si perde nel tempo, quasi sembrava una cosa antica, come se fosse veramente in contrasto con quello che è il nostro 2010. Per il resto amo molto la natura, molto gli animali, più che l'uomo. Chi va in India dice che rimane affascinati. Tu come fotografo, è successo così anche per te? Guarda, ti do del tu. La folgorazione sull'India non l'ho avuta, diciamo, più che altro perché io quando viaggio mi limito soltanto all'osservare, il vivere, le emozioni le tengo dentro e solamente quando magari le ho espresse in fotografia allora riesco a tirarle fuori. È difficile poterti spiegare e poterti rispondere a questa domanda. Forse rimarrei molto più colpito dalla natura stessa che da un posto magari con un popolo affascinante come può essere ad esempio Cuba. Mi attira molto di più forse il lato naturalistico in questa parte. Ecco, allora sì. Stai pensando già a una prossima mostra? Su quale tema? Non ho idea sulla prossima mostra né su un altro tema. Sono istintivo, vado avanti così e comunque sia eventualmente poi quando affronterò un altro tema o un altro viaggio ne discuterò o ne parlerò con persone che magari mi possono anche indirizzare. Alla fine torno a ripetere. Sono agli inizi, devo imparare molte cose. Io ho l'istinto che da una parte probabilmente è un bene e dall'altra è ancora quella parte acerba di me come fotografo. Però sono sicuro che comunque a prescindere da quello che sarà il mio futuro riuscirò ancora a fare tante altre belle cose, a prescindere.